Con l'archivio storico di oggi vogliamo ricordare una figura politica di grande rilevanza per Genova, ma non solo per Genova, direi per tutta la regione, anche se in realtà qualcuno lo definì il Doge di Genova. Sto parlando di Rinaldo Magnani, che ha cominciato a lavorare in porto nella compagnia dei Carenanti, di cui poi divenne Doge a soli 26 anni, coltivando parallelamente una passione per la politica che poi prese il sopravvento. Lui era socialista, craxiano di ferro, acquistò spazi sempre maggiori, più autorevoli sia nel partito sia nelle istituzioni locali, fu consigliere, assessore e presidente della provincia prima, poi presidente dell'Istituto Case Popolari, di nuovo consigliere, assessore e presidente della regione Liguria, che guidò per sette anni. E poi arrivò alla presidenza, la quale probabilmente lui teneva di più, viste le sue origini, cioè quella del consorzio, di quello che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, l'autorità portuale di adesso. Uscì dal Partito Socialista nel 2002, passando a Forza Italia, e venne scelto dalla Casa delle Libertà come candidato, diciamo così, a sindaco di Genova, si scontrò con Pericu, ma fu sconfitto in quella circostanza, quindi si dovete accontentare della poltrona di consigliere comunale. Morì proprio a Tursi, il primo febbraio del 2006, vittima di un malore, mentre era in corso un dibattito sull'intitolazione di una strada a Fabrizio Quattrocchi, il contratto genovese che era stato ucciso in Iraq, assieme a tre suoi colleghi. E allora vediamo dall'archivio storico un servizio che ricorda appunto la morte di Magnani, riassumendo in qualche modo anche quella che è stata la sua carriera politica. È una perdita, una perdita grave per la città. Un uomo di un'intelligenza fine, una persona capace di interpretare la nostra realtà sociale ed economica in modo molto intelligente. Le parole del sindaco di Genova Pericu riassumono il pensiero di tutti. La scomparsa di Rinaldo Magnani lascerà un vuoto nel mondo politico ligure. Non solo tra chi lo ha conosciuto in comune, in provincia, in regione, al porto. Aveva 75 anni, da sempre socialista, stava lavorando alla ricostruzione della casa unitaria dei socialisti. Intanto continuava l'impegno come consigliere comunale tra le fila di Forza Italia. Ed è lì in comune a Tursi che si è sentito male, intorno alle 10 mentre stava per andare in commissione. Uscito dall'ascensore del piano nobile ha accusato un forte malore. È caduto a terra battendo la testa sul pavimento. È qui che gli altri consiglieri comunali lo hanno trovato ancora cosciente. Lo hanno trasportato d'urgenza al Galliera ma è spirato dopo mezz'ora. Alle 11 è morto. Appena si è sparsa la voce, in ospedale si sono radunati gli amici di sempre, quelli che con Magnani hanno condiviso molte battaglie, gli avversari politici e ovviamente le sue figlie. Il ricordo di tutti è quello di una persona che ancora oggi avrebbe potuto fare molto per il suo impegno politico. Lui riconosco, oltre che un amico, un grande amministratore e un raffinato uomo politico. Ci dispiace perché la sua esperienza politica, la sua lungimiranza, la sua conoscenza dei problemi di Genova e del Porto in modo particolare per noi era un grande punto di riferimento. Di Rinaldo mi mancherà la sua grande esperienza, la sua grande capacità di sintesi, di capire le situazioni politiche, la sua giovialità. Io sono entrato in politica con lui attraverso lui, ho conosciuto il socialismo, quello romantico, quello dell'amico, delle istituzioni poi successivamente. È un grande ricordo. Avevamo molto bisogno di lui in questa fase dell'unità dei socialisti, dell'unità delle persone. Lui era un vecchio leone, era presente sempre, è combattuto fino all'ultimo minuto. Non a caso stamattina lui si è sentito male mentre veniva a lavorare in commissione bilancio del Comune di Genova. Sarà l'autopsia a chiarire perché è morto Rinaldo Magnani, verrà effettuata giovedì. Poi venerdì sarà allestita la Camera Ardente a Palazzo San Giorgio, sede dell'autorità portuale di Genova, una delle tante case di Rinaldo Magnani, probabilmente quella che amava di più. Sabato i funerali. Questo dunque è il servizio sulla morte di Rinaldo Magnani, ma ovviamente nell'archivio storico potete trovare tanti altri servizi girati nel corso della sua lunghissima e importante carriera per chi volesse ricordare appunto quello che, come ho detto all'inizio, qualcuno aveva definito i doji di Genova, la maniera la conoscete ovviamente, voi lasciate andare sul primocanale.it, sulle nostre applicazioni, cliccare sul banner dell'archivio storico per entrare in questo mondo veramente straordinario che Primo Canale ha costruito nel corso di più di 40 anni della sua vita.